Mi chiamo Maria Luisa Mirabella e voglio presentarvi la formazione per conduttori di costellazioni familiari che offriamo all'Università Popolare del Sociale nell'anno 2022-2023. I corsi inizieranno ad ottobre. Questa formazione può essere interessante tanto per quelle persone che la vogliono utilizzare solamente per la propria crescita personale attraverso lo studio del proprio albero genealogico, lo studio dei legami familiari, il transgenerazionale, sia per chi vuole apprendere a utilizzare gli strumenti delle costellazioni familiari con i propri clienti, ovvero professionisti che già si dedicano alla relazione d'aiuto e derivolta anche e soprattutto a chi desidera fare del costellatore familiare una nuova professione. La formazione è composta da tre videocorsi che possono essere frequentati in qualunque momento durante il percorso della formazione e sono composti da lezioni, video lezioni registrate oppure possono già essere iniziati prima di iniziare la scuola e sono costellazioni con oggetti simbolici dove utilizziamo, lo studente impara ad utilizzare gli oggetti ovvero dei pupazzetti per effettuare delle costellazioni familiari individuali. I pupazzetti per esempio sono questi, i Playmobil, che possono essere poi insomma acquistati oppure possono essere qualunque tipo di pupazzetto che si vuole utilizzare come rappresentante delle persone che poi si metteranno in scena in una costellazione individuale. Il secondo corso è la sindrome del gemello scomparso, è un percorso abbastanza formativo abbastanza complesso quindi preferiamo appunto che lo studente già lo studi a parte perché se no richiederebbe moltissimo tempo per poterlo, anche solo la teoria, per poterla fare durante il percorso scolastico. Ma naturalmente verrà, le costellazioni verranno poi fatte durante i webinar. Il terzo corso è un corso di marketing che aiuta appunto la persona che vuole farne una nuova professione a così ad avere un po' di dritte di marketing e si intitola come attirare clienti ideali ma può essere utile per qualunque professionista. Dopodiché la formazione comprende 7 webinar live su piattaforma Zoom dove appunto faremo sia parte pratica sia parte naturalmente teorica. Ovviamente al termine di tutto il percorso lo studente dovrà preparare una tesina che verrà corretta ma durante tutto il percorso dell'anno ci sarà modo di esercitarsi e al termine riceverà un diploma e un tesserino tecnico per poter operare come costellatore familiare. Cosa apprenderemo? Apprenderemo a come svolgere una costellazione familiare in due modi in gruppo o individuale. Il contenuto teorico della formazione sarà molto specifico e riguarda sia una conoscenza teorica dell'insegnamento di Bert Hellinger, il terapeuta che ha sviluppato il metodo delle costellazioni familiari, sia una conoscenza di psicogeneologia del genogramma. Gli studenti impareranno a eseguire un genogramma ovvero un albero genealogico commentato e il percorso sul transgenerazionale. Vi spiegherò la metodologia perché chi comincia comunque ha bisogno di avere una serie di indicazioni per sentirsi più sicuro, per poter in un secondo tempo una volta che avrà fatto pratica naturalmente apprendere poi ad essere più creativo ma inizialmente diciamo che è importante apprendere un metodo. Vedremo come strutturare una costellazione familiare in tre fasi. La prima fase sarà l'intervista con il cliente, ovvero un primo contatto con il cliente, che domande fargli, qual è l'obiettivo che il cliente desidera raggiungere con la costellazione, le domande da fargli sul suo albero genealogico familiare e eseguendo appunto il genogramma. Vedremo questo disegno per costruire l'albero genealogico familiare. Stabiliremo attraverso questo quali sono i suoi legami con i genitori, con i fratelli, con i nonni, con gli antenati, quali sono i fatti rilevanti accaduti nel percorso di questa famiglia, le morti particolari, le tragedie, i traumi e come il nostro cliente può essere stato influenzato da tutto questo attraverso quella che si chiama la lealtà familiare inconscia. Spiegherò che cosa significa avere una lealtà familiare e insegnerò tutti i tipi di domande che si possono fare al nostro cliente. Il secondo punto sarà ampliare lo sguardo, ovvero in questa fase entreremo nella pratica, quindi utilizzeremo nel caso appunto del gruppo, utilizzeremo le persone e se si tratta anche di una costellazione individuale vedremo come utilizzare per rappresentanti gli omini, i pupazzetti, chiamiamoli così. I rappresentanti durante la costellazione ci daranno quelle informazioni su ciò che quella famiglia, la famiglia del nostro cliente ha bisogno di mettere in ordine, quindi ci evidenzieranno gli eventuali disordini, comprenderemo come questi disordini stanno bloccando il nostro cliente. Il cliente vorrà naturalmente costellare una situazione della sua vita, una malattia, una separazione, un blocco lavorativo, un blocco economico e vedremo come poter affrontare tutte queste situazioni. La terza fase della costellazione che i nostri studenti apprenderanno sarà l'immagine di soluzione. In questa terza fase portiamo il cliente a integrare tutto quello che ha scoperto e a cominciare il processo di guarigione. Quindi utilizzeremo quelle che si chiamano le frasi guaritrici, frasi che permettono di scoprire l'amore nascosto, la lealtà inconscia, sono frasi che permettono proprio la liberazione. Se andate sul nostro canale YouTube troverete diverse di queste frasi che già potrete imparare a utilizzare anche nella vostra vita o con i vostri clienti. Una volta che abbiamo portato il cliente a onorare la sua famiglia, perché questo poi è lo scopo di una costellazione familiare, è quello di riconciliare le persone, di ristabilire i legami. Il cliente potrà liberarsi dei suoi pesi e quindi dirigere il suo destino dove desidera. Con la fase di soluzione cerchiamo anche di guarire i vincoli, quelli più importanti col padre, con la madre, con i fratelli, dove sono danneggiati. La costellazione familiare permette di realizzare un viaggio nel tempo, nel tempo passato o nel tempo presente. A volte è necessario andare alla radice nel passato, nell'infanzia e a volte è necessario andare ancora più indietro ai nonni, ai bisnonni, a volte addirittura ai trisavoli. La costellazione familiare permette di capire che cosa non è in ordine nella famiglia e la soluzione permette di guarire i rapporti, di lasciare andare i pesi, di sciogliere i blocchi. Farò costellazioni, naturalmente tante costellazioni agli alunni, spiegherò come faccio, i passi che seguo, ci sarà uno spazio per farmi delle domande e così potranno pian piano apprendere la metodologia. Poi faremo naturalmente tanta tanta pratica. Gli alunni potranno praticare tra di loro perché oltre ai sette webinar live ci saranno degli incontri di supervisione di un paio d'ore dove ogni studente potrà provare a guidare lui stesso una costellazione. Quindi faranno costellazioni tra di loro sempre anche attraverso appunto l'uso dei Playmobil, quindi dei pupazzetti. Vedremo i temi in particolare in ogni incontro, quindi ogni incontro avrà un tema specifico. Il primo incontro, il tema sarà gli ordini dell'amore di Bert Hellinger che sono quelli che permettono di capire come amare senza fare danni, quindi passare dall'amore cieco all'amore consapevole e mettere ordine, capire perché ci sono dei disordini nelle famiglie. Questi tre ordini sono l'appartenenza, la gerarchia e l'equilibrio tra il dare e il ricevere e lavoreremo con questi ordini sempre per tutto il percorso formativo perché sono proprio la base delle costellazioni familiari. Al secondo incontro vedremo la psicogeneologia, il transgenerazionale e il genogramma. Vedremo qui le lealtà familiari e anche di queste, di questa parleremo per tutta la formazione, ovvero i legami con i nostri genitori o con i nostri antenati, i legami inconsci che ci legano a loro. Scopriremo come ci carichiamo di pesi che non ci appartengono, come ripetiamo o ripariamo il destino dei nostri predecessori, come ci creiamo delle sofferenze sia che ripetiamo i destini altrui, i pesi altrui, sia che li ripariamo perché riparando andiamo all'estremo opposto e ugualmente soffriremo. Vedremo il genogramma ovvero come scrivere un albero genealogico commentato con tutti i fatti accaduti in maniera sintetica. Nel terzo corso vedremo la coppia ai figli ovvero affronteremo il rapporto con i genitori biologici e adottivi in caso di persone adottate, guariremo questi legami perché guarendo i legami con i genitori guariamo anche i legami con i nostri partner. Vedremo cosa rappresenta la madre, cosa rappresenta il padre per la salute, per il lavoro, per la nostra vocazione, per la nostra capacità di generare denaro, di fare progetti, di fare obiettivi. Vedremo l'importanza di guarire questi legami, vedremo come la relazione con i fratelli per esempio ha a che fare con come ci relazioniamo con gli amici, con i colleghi, con le persone al nostro stesso livello gerarchico. Vedremo tutto ciò che ha a che fare con la coppia, quello che impedisce alla coppia di avere, di funzionare, di avere un legame armonioso. Parleremo dei figli del progetto Senso che è un po' come una missione che abbiamo ricevuto prima ancora di essere stati concepiti dal clan familiare, un programma che condiziona il nostro destino. Andremo a scoprire qual è questo programma inconscio e come ci è stato trasmesso dai nostri genitori. Nello quarto incontro andremo a vedere le ingiustizie, ovvero le ingiustizie subite dai nostri familiari e come queste ingiustizie hanno influito sulla vita nostra dei discendenti per lealtà familiare. Le morti considerate ingiuste, gli aborti considerati ingiusti, le diseguaglianze sociali, gli esclusi, gli amori ostacolati e tanto altro. Il quinto incontro vedremo il denaro, il lavoro, la professione, la vocazione e anche le costellazioni aziendali. Vedremo come guarire la nostra economia, come collegarci con l'abbondanza, vedremo come la lealtà familiare può bloccare la nostra vocazione, il nostro lavoro, le nostre finanze. Vedremo quali sono i vantaggi nascosti nel non avere denaro perché magari avendo denaro diventiamo indipendenti e ci stacchiamo dalla famiglia e magari invece c'è qualcuno che continua ad avere bisogno di noi e quindi noi restiamo dipendenti. Vedremo nel sesto corso la malattia, la morte, il lutto e le perdite. Vedremo che le malattie hanno a che fare con sempre con quella famosa lealtà familiare inconscia e con i disordini del sistema. Le malattie generano quelli che chiamiamo di nuovo vantaggi nascosti, ovvero essere malati a volte porta beneficio alla persona o al suo sistema familiare. Molte volte nella famiglia ci sono persone che si sentono utili prendendosi cura di qualcun altro e questo dà valore a queste persone ma per dare valore a queste persone qualcuno si ammala e quindi cosa capita? Che se c'è un familiare che deve prendersi cura di un malato, magari perché è il suo programma di vita, ci dovrà essere qualcun altro che per lealtà si ammala. A volte la malattia permette che non abbandoniamo la famiglia, genera vincoli di dipendenza. Vedremo anche i lutti non elaborati e come questi hanno a che fare con i blocchi della nostra vita dal punto di vista affettivo, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista economico. La malattia ha a che fare con la famiglia quindi vedremo la sindrome del giacente. Il giacente è una persona che è nata nel sistema familiare con un mandato di sostituire un morto che il sistema familiare non ha potuto piangere o di cui non ha potuto elaborare il lutto o perché magari è morto in guerra e quindi così il cadavere è stato disperso o perché appunto non ha più potuto vederlo, salutarlo ecco all'ultimo momento perché magari è morto di un incidente all'improvviso. Sono persone che sono molto collegate alla morte, questi discendenti che hanno la sindrome del giacente e quindi desiderano la morte e ne hanno paura allo stesso tempo e quindi attirano incidenti o attirano malattie nelle proprie vite. È molto importante trattare queste persone in costellazioni familiari perché possano liberarsi da questo peso che impedisce loro di vivere la loro vita serenamente. Nel settimo e ultimo corso vedremo il nostro bambino interiore e i bambini ovvero le costellazioni con le favole. Nelle costellazioni familiari lavoriamo anche con il nostro bambino interiore, il bambino ferito o il bambino innocente. Il bambino ferito è sofferente per ciò che ha subito nell'infanzia, per le ferite di abbandono, di rifiuto, di ingiustizia, di umiliazione, di tradimento. Da questo dolore costruisce un ego protettore quindi può diventare narcisista, può diventare una persona che non empatizza oppure una persona che vive tutta la vita da vittima, vuol far pena oppure vuole vendicarsi e il nostro dolore personale che si approfitta degli altri oppure non si permette di esprimerlo. A volte questo dolore si trasforma in malattia, in blocchi di vario genere, in varie difficoltà e poi vedremo attraverso le favole come lavorare col bambino interiore e allo stesso tempo come lavorare con i bambini. Poi c'è il bambino interiore innocente, quello che è amore puro per la famiglia, con questo bambino abbiamo preso su di noi dei mandati, dei pesi per lealtà, per cercare di ripetere o di riparare ciò che nel sistema familiare ha generato molto d'onore. È importante lavorare anche sul bambino innocente, non solo sul bambino ferito perché il bambino innocente è una parte molto più profonda del bambino ferito. Con le costellazioni familiari insegniamo al bambino innocente ad amare in un altro modo, con coscienza, senza farsi del male, senza sacrificarsi, senza caricarsi dei pesi non suoi. Insegnargli ad essere felice anche se i suoi genitori non sono stati felici, senza sentirsi in colpa. I nostri blocchi, i nostri boicottamenti vengono dal bambino innocente che pensa di non meritare e il nostro dolore invece viene dal bambino ferito. Ecco perché è importante lavorare su entrambi i livelli, sul bambino interiore ferito e sul bambino interiore innocente e qui affronteremo questo percorso oltre che con una parte teorica naturalmente anche con una parte pratica lavorando con i simbolismi delle favole, anzi in realtà delle fiabe. Poi vedremo anche come fare le costellazioni visibili, che sono le costellazioni classiche e le costellazioni nascoste. Visibili sono quando i rappresentanti sanno chi rappresentano, ovvero un rappresentante sa di rappresentare il padre o la madre del cliente o il nonno, lo zio, il fratello e così via. Il cliente sa chi rappresentano le persone. Nascoste invece è quando né cliente né i rappresentanti sanno chi rappresentano. Chi conosce i ruoli assegnati è solo il costellatore familiare. In questo caso ci affidiamo completamente al campo perché i rappresentanti non possono più basarsi sui ruoli in quanto non sanno che ruoli rappresentano. Quindi noi durante questo percorso faremo anche questo tipo di costellazioni, quindi anche le costellazioni nascoste o dette anche costellazioni dell'anima. Vedremo di capire, spiegherò come capire il linguaggio del corpo quando un rappresentante è a caldo, a freddo, quando stringe i punti, quando guarda a terra, quando guarda oltre e quindi apprenderete come strutturare una costellazione familiare, come apprendere un metodo che potrete usare come costellatori familiari naturalmente. Vedrete come si lavora con il campo morfogenetico della costellazione, ma non solo i rappresentanti ma anche il costellatore, come deve fare il costellatore ad appoggiarsi, affidarsi del campo. Faremo tante costellazioni, tutti gli studenti saranno costellati in base al tempo naturalmente, alla disponibilità, alle necessità del gruppo che sorgeranno. Ognuno potrà ricevere due, tre o più costellazioni durante il periodo di formazione. Questo dipende da quante persone saranno iscritte anche se noi chiudiamo le iscrizioni, raggiunti un certo numero di partecipanti in modo da non fare delle classi troppo grosse. Gli alunni inoltre particheranno sempre tra di loro, sempre continuamente, quindi sia a livello individuale sia a livello di gruppo tra loro e scopriranno i loro punti di forza e come gestire le proprie insicurezze, perché naturalmente un costellatore alle prime armi avrà anche delle insicurezze, ma cercherò di aiutarli a gestirle al meglio. Bene, le iscrizioni possono già essere fatte a partire dal mese di giugno e quindi potrete scrivere in segreteria. Sotto questo video trovate tutte le indicazioni, i link per il sito dove trovate anche la brochure di tutta la scuola e i dati per scrivere in segreteria e iscrivervi. Potete fare una pre-iscrizione oppure cominciare a iscrivervi ai corsi online e poi a settembre o ad ottobre iscrivervi direttamente ai corsi della scuola. C'è anche una possibilità di rateizzazione. Per qualunque domanda potete scrivere in segreteria, chiedere il mio numero di cellulare, telefonarmi o scrivermi in whatsapp, io sarò ben lieta di rispondere alle vostre domande. Vi aspetto e vi auguro una buona vita.